ciao a tutti e ben ritrovati in questo nuovo video oggi voglio parlarvi delle ultime novità presentate da joda cosmetics per chi non la conosce si tratta di un'azienda siciliana sempre del mio territorio e che appunto in occasione anche di un traguardo raggiunto su instagram ha deciso di lanciare due referenze in tessuto si tratta quindi di due maschere che potrei definire vengono pensate come trattamento della pelle preparatorio per il make up la primer mask e la bb mask sono due maschere entrambe in tessuto di cellulosa e quindi entrambe diciamo vanno applicate direttamente sul viso pulito a pelle asciutta come trattamento partiamo dalla primer mask è una maschera che va utilizzata circa 5 10 minuti prima del make up come si applica appunto come una normale maschera in tessuto svolge quattro azioni ha un'azione sia preparatoria del make up sia idratante sia anti age e sia illuminante ha di alfa idrossi acidi e di altissimi altri estratti che vanno ad esfoliare la pelle stimolare il turnover cellulare plasticizzante e antiossidante della pelle usando eventuali processi di invecchiamento cutaneo di un trattamento che va ad idratare la pelle, levigarla e trattare un po' le imperfezioni vi mostro quindi la mia applicazione è una maschera leggermente colorata che però non colore il viso quindi il tessuto è quasi colorato ma non intacca la tonalità del nostro viso sinceramente io ho notato soltanto un'azione molto idratante della pelle è leggermente illuminante ma non ho notato particolari diciamo miglioramenti riguardo uniformità del viso o eventuale riduzione dei cori quindi sinceramente non è una maschera che mi ha particolarmente entusiasmato e invece delle BB mask le BB mask sono disponibili in due varianti di colore la light skin che è quella che ho provato io e la medium skin che ho fatto provare a mia mamma chiaramente sono anche se imbevute e hanno una tonalità leggermente più colorata rispetto alla primer skin potrebbero secondo l'azienda andare a sostituire una base viso per quei che dovrebbero andare a opacizzare, uniformare l'incarnato offrendo comunque un colorito e un risultato quanto più naturale possibile lasciando la pelle idratata realizzata con alghe brune, con acqua di mare e ovviamente con un colorante differente per pelle chiara o per pelli medio scura come mi sono trovata con questi prodotti? intanto vi faccio vedere come l'ho applicata e quindi vi faccio vedere come l'ho applicata allora io personalmente la cosa che ho notato è che non mi colora ovviamente ho usato la light skin quindi chiaramente se volete utilizzare magari la medium skin su una pelle chiara chiaramente si potrebbe vedere un distacco di colore però voi dovete utilizzare chiaramente la vostra donatata è un prodotto che mi è piaciuto molto perché a parte uniformare l'incarnato, minimizzare le imperfezioni mi ha illuminato molto la pelle ed ha idratato, cioè la pelle era vellutata morbida come quella di un bambino ho trovato ad essere un trattamento ideale per la pelle intanto quindi come un po' le altre maschere presenti nella gammaggiata è perfetto non come BB cream bensì per me come primer quindi in realtà io promuovo questa come primer mentre la primer mask non mi ha particolarmente entusiasmato e spero che questa BB mask venga magari fornita con una maschera in tessuto riutilizzabile insieme ad un full size liquido in modo da poter utilizzarla senza doverne comprare più pack che comunque porterebbero anche a maggiori sprechi anche mia mamma ha avuto l'esperienza ovvero anche lei avendo una pelle un po' rivastra ha utilizzato la medium skin non ha visto dei tratti coloranti però comunque la sua pelle era molto più compatta più luminosa più uniforme e ciò praticamente la rende varia della prova come base viso quindi da utilizzare prima del make up di fatto utilizzando prima del make up la pelle è molto più morbida molto più rigenerata e quindi è anche più predisposta a far durare di più il vostro make up le referenze certificate ihab, vegan e nickel tested ed ogni maschera è imbevuta di 15 ml di prodotto queste sono un po' le mie considerazioni anche dettate da un unico utilizzo fatemi sapere se avete avuto modo di provare queste referenze di acquistare queste referenze anche per avere diciamo uno scambio di opinioni in questo video vi siete avuto diciamo per degli acquisti consapevoli anche in piena linea con le vostre esigenze ci vediamo al prossimo video ciao